PEGI 3 Scopri qualcosa di magico in un luogo dove i sogni si avverano Immagino che ora vorrei un bacio La principessa e il ranocchio ora è anche un videogioco Balla a ritmo di musica Divertiti nella palude con fantastici minigiochi Sfida amiche e amici e gioca in famiglia con la console Wii La principessa e il ranocchio, il videogioco